Andrea Paroni, ovviamente pluricelebrato eroe di questa domenica di Casale Monferrato, una domenica che ha scritto la storia dell'Entella, quantomeno quella degli ultimi 40 anni, perché grazie a questo gol, a questo pareggio, a questo passaggio del turno, l'Entella va a toccare quello che è stata la parte più alta della sua storia negli ultimi anni. Però ovviamente per te è una soddisfazione doppia, al di là dell'aspetto del gol, credo che comunque sia il coronamento di una bella prestazione. Mi pare che tu stesso abbia detto che un portiere spera sempre di fare una buona prestazione con tante parate importanti. Chiaramente poi aggiungere anche un gol di questo peso è veramente un sogno. Sì, innanzitutto sono contento comunque per la squadra, per il traguardo ottenuto, ma che comunque non abbiamo fatto ancora nulla perché c'è ancora una finale da giocare. Poi sì, comunque sono un portiere, il portiere è quello che voglio fare, per cui sono contento per le parate innanzitutto, per essere riuscito a tenere comunque magari aperta la partita fino all'ultimo minuto, poi che sia stato io a fare il gol. Insomma, passa forse per quanto riguarda me un po' in secondo piano, ma sì, sono contento anche molto per le parate, poi il gol è veramente qualcosa di grande, ecco, che non mi sarebbe mai aspettato. È un classico che con Casale appunto ci sia questo sfoderare prestazioni importanti, in qualche caso sono servite come domenica scorsa, in qualche altro caso come con la famosa finale play-off della Serie D non servirono, anche se poi la squadra naturalmente fuori pescata. Sì, sì, brucia ancora quella sconfitta nei supplementari, però devo dire che due anni dopo adesso baci, pareggiare, e quindi passare il turno forse ha un sapore ancora più bello appunto, visto quello che abbiamo passato due anni fa. Insomma, per me l'avevo sentita parecchio quella partita e mi era dispiaciuto veramente un sacco per i compagni e per l'annata comunque importante che avevamo fatto due anni fa. E riuscire in questa, chiamiamola, impresa di quest'anno, insomma, sono belle soddisfazioni e che poi vengano col Casale. Insomma, poi è un altro discorso. Con qualsiasi squadra venga poi sarebbe stata comunque la stessa cosa. Ecco, da fuori soprattutto i commentatori, diciamo, di casa, quindi i piemontesi, osservavano come un portiere del genere meriti qualche categoria superiore. Ovviamente non sono i soli a dirlo nel corso di tutta la stagione, però mi pare che tu a Chiavra stia molto bene, o sbaglio? Ma io a Chiavra sto benissimo, sono legato alla società e questi discorsi qua li lascio fare ad altre persone. Io se mi trovo qua è perché evidentemente ho anche cose da migliorare. Non guardo al futuro, così penso di far bene con l'Entella e sperare di rimanerci più a lungo e poi magari crescere pian piano anche insieme all'Entella. A proposito di crescita, quanto è importante avere da tre anni lo stesso preparatore col quale ormai si è instaurato sia, diciamo, personalmente che anche lavorativamente, un feeling importante? No, è importantissimo perché comunque trasmette tutto quello che ha passato lui quando ha giocato ed è comunque un punto di riferimento. È una persona eccezionale, ma poi come allenatore comunque nonostante ci sia un rapporto di tre anni se deve dirmi qualcosa me la dice, non si è mai nascosto. Insomma, forse il segreto è quello di essere sempre diretti sinceri nelle prestazioni quando sono negative, quando sono positive e poi comunque il lavoro evidentemente sta portando buoni frutti, sta pagando. Per finire questo doppio scontro con il Cuneo, parlavamo col mister, una squadra ostica, una squadra anche molto fisica, forse la più fisica in assoluto di tutto il campionato e forse quella che soprattutto nel ritorno ci ha messo un po' più in difficoltà di tutte le altre squadre. Sì, ma è l'unica squadra che non ci ha fatto fare un punto in campionato e abbiamo, soprattutto in casa, abbiamo faticato molto a costruire gioco e sono stati molto bravi perché insomma venire a giocare al comunale quest'anno è stato difficile per tutti. Loro ci sono riusciti bene, sono riusciti a portare a casa i tre punti adesso però una finale non è più campionato è difficile per noi ma sarà difficile anche per loro. Mister, una domenica densa di emozioni, emozioni importanti, emozioni positive e soprattutto un risultato molto positivo. Sì, a fine è quello che conta il risultato, ci permette di andare in finale. C'è stata l'ennesima dimostrazione che le partite nei play-off esono da qualsiasi pronostico. Noi ci abbiamo messo cuore, testa, poi nella partita di ritorno una componente di fortuna che sempre ci va in queste sfide così equilibrate. Dispiace per il Casale perché è uno degli avversari, perché sono di grande valore. Cerchiamo che è molto crudele questa roulette dei play-off. Però insomma noi nel nostro percorso di crescita durante l'anno abbiamo sofferto e faticato e anche un po' di fortuna in certe partite durante l'anno. non è che si è arriso nei nostri confronti e direi che insomma andiamo con grande soddisfazione in finale a giocarci una partita in cui per noi è un sogno, probabilmente per il Cuneo diciamo non dico che è un obbligo, però sicuramente partono da due risultati su tre, partono da due confronti diretti durante l'anno, vinti tutti e due contro di noi. Noi siamo anche in una situazione di giocatori non proprio eccezionale dal punto di vista della salute, e così però alle 16 di domenica tutto viene azzerato. Ecco, a proposito di situazione di giocatori, domenica scorsa forse è stata effettivamente una delle domeniche più difficili sotto questo aspetto anche nella gestione della squadra visto le tantissime assenze e visto soprattutto il rapporto con l'avversario di Valore che invece giocava veramente la partita dell'anno sicuramente. Ma adesso la situazione non è che probabilmente sia molto migliore perché Villa Gatti e Amnili sono squalificati e vediamo, vediamo un po' gli altri infortunati sappiamo che il Rosso domenica ha giocato in condizioni di assoluta emergenza adesso abbiamo tutta una settimana davanti e vediamo poi con lo staff medico a fine settimana chi possiamo recuperare. Ecco, a questo proposito dicevamo una partita, questa della doppia finale, non facile da preparare soprattutto perché questo avversario ha dimostrato appunto di saperci mettere in difficoltà come forse poche altre squadre hanno fatte nel corso della stagione. Sì, è una squadra che c'è stata davanti per 38 partite, ha perso la vittoria del campionato diretta a 10 secondi dalla fine di grande valore, è una squadra nata l'anno scorso, ha vinto la Serie D, è una squadra con grandi certezze, quest'anno è una squadra molto pratica, molto umile, consapevole della propria forza e delle proprie qualità, quindi è un avversario difficilissimo ma non potrebbe essere diversamente, parliamo di una finale playoff, noi sappiamo che abbiamo le nostre armi, domenica in casa ci aspettiamo molto dal pubblico, ci può dare una spinta per compensare magari questo gap che può esserci tra noi e loro, siamo convinti che faremo sicuramente due grandi prestazioni. Al di là del risultato ottenuto domenica, la cosa che fa più piacere è la reazione della squadra, quindi il carattere ancora una volta dimostrato da questo gruppo, che in un certo senso è un po' la conferma della crescita di quella maturazione che tu hai cercato un po' per tutto l'anno. Sì, parlavo anche oggi con i ragazzi, il nostro percorso di crescita in particolare che mi faceva tra virgolette soffrire era questa ancora mancanza di riuscire a ribaltare il risultato, quindi di carattere, di temperamento, di convinzione, direi che la svolta c'è stata ai primi di aprile col San Marino in casa, dove è andato in svantaggio contro una grande squadra, siamo riusciti poi a ribaltarlo e da lì anche sotto questo aspetto abbiamo avuto una crescita che ritengo importante nella costruzione di una squadra, c'è questo aspetto di forza morale, caratteriale di convinzione, sono delle armi che poi soprattutto nei play-off risultano determinanti. Parlavi di pubblico, anche domenica abbiamo avuto la dimostrazione di come si sia risvegliato un certo entusiasmo attorno all'Intella, un entusiasmo che come dicevi prima potrebbe venire bene domenica, quale è il dodicesimo uomo in campo? Beh, io ti dico che domenica a Casale una parte del merito della nostra rimonta va al pubblico, se probabilmente avessimo attaccato, sembra una cosa banale o assurda, dall'altra parte non avremmo avuto lo stesso rendimento. La spinta della gente verso la porta di Casale è stata incredibile, le azioni sono nate sotto la tribuna, c'è stata un'emotività, una spinta straordinaria, una partecipazione come abbiamo visto nelle partite ultime in casa che domenica, lo ripeto, saranno veramente il dodicesimo uomo per noi.